Come è il nostro discorso? Buongiorno, docente skill lab, stiamo chiudendo oggi il percorso di formazione e formatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, un corso di 24 ore che è cominciato con una presa in esame di tutto il percorso che porta poi all'aula, quindi analisi dei bisogni formativi, progettazione del percorso didattico, docenza in aula, andremo oggi a chiudere con la valutazione dei risultati, ovvero metodi e strumenti che ci permettono di capire se il percorso è stato un problema. E' stato efficace.